Poiché ne esiste uno solo ed è un soppressivo, noi porremo poi in votazione il mantenimento dell'articolo. Comunque i pareri li prendiamo. Prego, relatore. Sì, Presidente. Come avrà intuito, il parere è contrario. Ho anche il sospetto che il Governo convergerà su questo parere, mentre l'onorevole Pilica, relatore di minoranza... 2.1 Gianluca Pini, Guidesi, Bossi ed altre parere favorevole. Si sospettava anche questo. Governo, invece, conforme al relatore di maggioranza. Perfetto. A questo punto, ricordo, poniamo in votazione il mantenimento dell'articolo. Quindi stiamo votando l'articolo 2. Se ci sono interventi, onorevole Pini, prego. Sì, Presidente. Cercherò di spiegare perché è necessario sopprimere questo articolo. al netto di quello che sono i vari casi U-Pilot che sembrano avere la precedenza sul buon senso. Ringrazio il collega Tancredi per averlo ammesso candidamente. Non facciamo modifiche perché dobbiamo fare la figura dei primi della classe. Io, quando andavo a scuola, ricordo che i primi della classe, poi, sistematicamente, alla prova dei fatti, fuori dalla scuola, erano i peggiori somari, perché imparavano tutta la memoria, ma non capivano assolutamente nulla di quello che andavano a leggere o andavano a scrivere. E questo qui è un altro caso. L'articolo 2 è un altro caso. Perché? Perché l'articolo rega delle disposizioni in materia di etichettatura del miele. Ci contesta la Commissione come contesta in altri casi, soprattutto quando si cerca di tutelare il made in Italy, l'etichettatura, la norma italiana che prevede... Grazie.